Situazione potenzialmente surreale al ballottaggio di Gorizia in programma domenica 25 giugno. Anche in caso di vittoria del candidato di centro-sinistra, la maggioranza in Consiglio Comunale risulterebbe sempre di centro-destra. Lo prevedere a legge regionale 19 del 2013, in cui si dispone che nei comuni con più di 15.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco al ballottaggio, è attribuito il 60% dei seggi, a condizione però che nessun'altra lista o gruppo di liste abbia superato, al primo turno, il 50% dei voti validi. In questo caso tutti i seggi vengono assegnati con metodo proporzionale. Il caso di Gorizia, in questo senso, è da manuale. Ziberna ha mancato la vittoria al primo turno per soli 22 voti, ma le otto liste a lui collegate hanno superato il 50%, raggiungendo il 53,9% con un totale di 7.394 voti. Quindi, per legge, anche se al ballottaggio dovesse vincere l'avversario Collini, la maggioranza sarà sempre della stessa parte politica. L'assenza di un premio di maggioranza per il vincitore del confronto elettorale determinerebbe due scenari molto simili in caso di vittoria sia del centro-destra che del centro-sinistra. Su 41 consiglieri, se Ziberna diventasse sindaco, ci sarebbero 24 consiglieri di centro-destra più il sindaco. Se a spuntarla fosse invece Collini, il centro-destra avrebbe comunque 23 consiglieri e il centro-sinistra 9.